dato che ci sei iniziamo siamo live come stai melissa sto bene joseph come stai bene stranamente non ho neanche il solito freddo se dalle mie parti si intravedono i primi colori primaverili anche se siamo a febbraio a marzo praticamente ecco sono i primi giorni di marzo e ho visto nell'albero vicino a casa mia il primo fiore di mandorlo il primo dell'albero bellissimo tutto da solo in mezzo ai rami secchi un preludio alla vita sono capitati gli occhi lì ci ho fatto una foto l'ho postata e devo ammettere che l'ho visto come un segno un invito alla rinascita ma soprattutto alla perseveranza no del inverno arriva sempre la primavera sì poi nel pomeriggio è venuto giù un acquazzone terrificante mai ho potuto verificare che il fiore ha ben resistito e sempre lì bellissimo ed è ancora l'unico fiorellino dell'albero di mandorlo da qui a un mese sarà bellissimo sarà tutto pieno lui era il primo era come per dirmi dai forza non rimarrà secco a vita questo tronco e questi rami tutto sboccia tutto sboccia allora oggi abbiamo una tematica molto importante come sempre sono tutte e importanti nel nostro caso credo ci riguardi da vicino perché noi usiamo molto questo strumento per noi stessi anche per il prossimo e parleremo della parola del potere delle parole faremo qualche piccola riflessione insieme per dieci minuti un quarto d'ora e subito dopo la nostra ormai aspettatissima sigla oggi qua perfetto guarda parto subito di botto quante volte ti è capitato di aver sentito perché te l'hanno detto perché te l'hanno scritto il famoso virgolettato eh sì ok ma sono solo parole un po di volte qualcuno potrebbe anche pensare che quelle che stiamo facendo in questo momento sì ok sono solo parole e invece dal tuo punto di vista e poi aspettiamo che anche gli altri nei commenti ci dicono qualcosa magari nella prossima puntata eh rispondiamo le parole non sono mai solo parole che strumento è la parola beh la parola è è uno strumento che crea e ehm allora farei subito una distinzione perché molte volte si dice sì sono solo parole perché contano anche i fatti e quello è assolutamente vero in questo caso ci stiamo concentrando più sul fatto che eh molte volte non si dà il peso la giusta importanza di come tendiamo a parlarci sì il modo in cui noi ci parliamo e quindi parliamo poi anche agli altri ehm va a creare quella che è la nostra realtà le nostre situazioni il nostro modo di porci quello che pensiamo di noi stessi e le parole quando diciamo io sono significa che ci stiamo riferendo a quella divinità che c'è in noi quindi con l'amore e le parole io sono quello che diciamo dopo vanno a creare la nostra realtà le situazioni nella nostra vita quindi è per questo che è importante evitare di sottovalutarle e smettere di dire sono solo parole perché le parole hanno una vibrazione come ogni cosa nell'universo infatti ho letto una frase un tempo fa che dice se vuoi capire l'universo pensa in termini di energia vibrazione frequenza le parole sono vibrazioni e dico questa cosa prima che eh mi mi sfugge di mente la parola con una vibrazione più bassa che dovremmo abolire quindi la parola con la vibrazione più bassa in assoluto ecco qual è preoccupazioni perché il termine stesso della preoccupazione significa che ti stai predisponendo preoccupando di un qualcosa che non è ancora accaduto e non sai se accadrà ed è un qualcosa che va a creare delle immagini catastrofiche nella tua mente che probabilmente non si realizzeranno neanche immaginate proprio questa cosa qui la parola preoccupazione separate la pre e occupazione cioè ti stai occupando prima di un qualcosa che non è accaduta che forse non è non non accadrà quante energie stai mettendo in un qualcosa che non c'è fatto ed è la parola che ha le vibrazioni più basse in assoluto invece la parola che ha la vibrazione più alta è la parola pace vero pace ecco perché anche si dice la pace nel mondo la pace interiore ti auguro la pace la pace sia con te pace la parola che ha la vibrazione più alta in assoluto vero quindi il modo in cui ci parliamo va a creare queste vibrazioni e va a creare la nostra realtà se io mi dico sono incapace è chiaro che non otterrò buoni risultati nella mia vita se io mi dico io sono determinata inizio a creare delle dei meccanismi dentro di me è un qualcosa che inizia a cambiare è chiaro che sempre importante ripeterlo perché è importante andare a riprogrammare un po' il nostro inconscio chiaro quello che sto dicendo adesso è un lavoro interiore ok quindi questa è una fetta ci sono tante fette dobbiamo immaginare noi come una torta e quindi c'è la fetta del delle affermazioni quindi lavoriamo sulle parole la fetta sul guarire le ferite interiore in questo caso ci concentriamo sulla fetta della parola e quindi appunto possiamo utilizzare le affermazioni ripeterle usarle più volte per andare a suggestionare il nostro inconscio e in un certo senso riprogrammarlo non importa che io credo io sono determinata ok posso anche pensare non porto mai termine niente ok però va a creare una vibrazione e delle azioni quindi è importante ripetere io sono determinata io sono determinata qualsiasi altra cosa io sono determinata perché il fatto di iniziare a ripetermi che io sono determinata il fatto di portare la mia attenzione mentale sul fatto che io sono determinata mi fa fare le azioni necessarie assolutamente ecco prima abbiamo usato la parola preoccupazione che è molto bassa molto negativa quindi quale la citiamo con il sorriso non abbiate preoccupazioni sostituiamo questa cosa qui predispone ecco mi dispone prima la parola mi predispone alla possibile azione quindi è un'anticipazione dell'azione quindi quel famoso sì ma sono solo parole poi ci vuole un atto pratico ecco un dialogo positivo ti rende più propenso più predisposto a fare un'azione per confermare quel dialogo un dialogo negativo lo dicevamo penso ieri sera anche nel nostro piccolo gruppo di percorso un dialogo negativo è come le sabbie mobili ti ferma lì ti fa sprofondare sempre più in basso non non ti dà la possibilità di vedere la possibile azione per ti fa solo vedere il problema te lo fa anche ingigantire ti fa preoccupare di un qualcosa che magari ancora non è accaduta e nel mente tu sprofondi 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 fino ad arrivare a un punto di purtroppo non ritorno o comunque un punto un pochettino più difficile da da sanare e questo riguarda le parole che ci diciamo e invece le parole che ascoltiamo e che diciamo agli altri hanno anche un potere vero cioè puoi tramite la parola aiutare una persona a venire fuori metaforicamente da un tunnel ovviamente sì per questo che esistono i percorsi di coaching le consulenze per questo che fa bene parlare anche con un'amica un amico confidarsi con le persone giuste circondarsi dalle giuste persone ecco perché molte volte anche si dice frequenta gli ambienti che sono allineati alla la tua energia perché quegli ambienti non solo per quello che magari c'è in quel posto ma anche per le parole che vengono dette certo perché chiaramente se vai in un posto in un bar dove le persone si lamentano senti queste sensazioni di rabbia di stress sono insoddisfatti è diverso se invece vai in un bar perché non è che c'è niente di male nel bar ok segniamo questo esempio è diverso se vai invece in un altro bar per dire dove ci sono persone che invece sono più sorridenti più grate quindi l'ambiente cambia proprio l'energia e sai cosa ho notato che i luoghi dove c'è un'energia molto bassa a livello verbale quindi di parole poi tendono anche ad assumere quell'aspetto nella materia cioè un luogo dove il dialogo è particolarmente negativo è anche un luogo tetro con un'aria un po' pesante anche se fuori c'è un sole che spacca le pietre bellissimo quel luogo è come se avesse assorbito tanta di quell'energia ed essersi trasformato nella materia invece poi ci sono dei luoghi magari a cui tu guardandoli a primo acchitto non daresti un grande valore però lì dentro c'è una grande energia comunicativa e buone parole entri e senti quell'energia lì sicuramente molti di quelli che ci stanno guardando e ascoltando ora stanno immaginando stanno ripercorrendo con la mente queste cose qui quel bar quel luogo quel centro bellissimo però pesante come energia là dentro e poi quel luogo un po' magari così che tu lo chiami tugurio dall'esterno poi ci entri e avverti delle vibrazioni bellissime ecco nasce dalla parola e nasce dalla parola anche la creazione della paura quindi quello che ascoltiamo anche tramite i media no tutto nasce così come nasce la creazione dell'amore assolutamente quindi alla fine ecco il potere tutto nasce dalla parola siamo siamo lì tutto nasce dalla parola infatti mi viene in mente anche come il come il potere che hanno i mantra quindi ripetersi delle frasi tipo io uno che uso tantissimo è Ho'oponopono ti amo mi dispiace ti prego perdonami grazie e che è appunto purificante se no mi ricordo quando quest'estate sono stata a Villa Vrindavana a fare volontariato lì è un centro di hinduisti e loro ripetono spesso il mantra di Hare Krishna che poi uno creda o meno in questa filosofia però questo mantra Hare Krishna io lo ascolto ancora adesso ogni tanto perché queste parole questo suono che ha ha il potere di portare luce e amore sul pianeta Terra infatti un paio di volte abbiamo organizzato anche delle giornate una a Firenze un'altra sul mare proprio a Via Reggio e a girare cantando questo mantra wow e queste vibrazioni queste parole vanno a portare luce e amore infatti a Villa Vrindavana l'energia è molto purificante hai la sensazione di essere lì da sempre e allo stesso tempo di essere appena arrivata idem per le persone hai questa sensazione di conoscerle da sempre e allo stesso tempo di volerle scoprire perché non le conosci per niente quindi c'è proprio questa apertura di spazio e tempo significa che le energie sono talmente alte grazie all'uso di questa parola che loro cantano tantissimo e questo è quello che si va a creare nell'ambiente ed è una cosa che possiamo creare anche dentro di noi nella nostra casa, nel nostro ambiente assolutamente e un'altra domandina che voglio farti sempre perché capita a me quindi voglio fare questo confronto noi comunichiamo molto tramite questo apparecchio diabolico però utile il social o almeno lo stiamo rendendo socialmente utile come ti dicono sì ma sono solo parole poi ti trovi delle persone che non hai mai sentito prima non hai il piacere di averle incontrate di averci preso un caffè che ti seguono magari da un po' e ogni tanto ti scrivono un messaggio privato un commento qualcosa che ti lascia lì fermo sulla riflessione che è un grazie quindi la gratitudine ti seguo da un po' grazie alle tue parole grazie a quello che comunichi sto capendo molte cose di me oppure sto cambiando molte cose nella mia vita ho trovato il coraggio di affrontare una determinata situazione eppure non ci conosciamo lì è merito dell'oratore o è merito della parola cioè la persona ha un'energia che si lega a quella parola e la fa diventare la sua oppure è proprio l'oratore che ti convince io credo che tutto accade nel momento giusto non c'è un merito è tutto nel momento giusto semplicemente allora c'è la frase che dice quando l'allievo è pronto il maestro appare esatto e chiaramente non è una cosa perché siamo tutti maestri l'uno dell'altra e allievi l'uno dell'altra perché c'è sempre questo scambio abbiamo sempre qualcosa da imparare dalla persona con cui interagiamo assolutamente veramente per noi che facciamo dei video valore è chiaro che io quando pubblico il mio video per esempio una cosa che faccio è che dico maestri fate arrivare questo messaggio alle persone che ne hanno bisogno in questo momento e io quando ci sono persone che mi ringraziano che mi scrivono io a loro a mia volta li ringrazio per aver accolto nel loro cuore il mio messaggio cioè mai niente è da dare per scontato però sicuramente sono energie che si chiamano energie che si chiamano in movimento e si porta guarigione io la porto in te tu la porti in me grazie alle parole all'energia alla sintonia vero un'altra mi hanno chiesto in un'intervista quando devi dire qualcosa te la prepari cioè un argomento e spesso lo facciamo anche con te non ci prepariamo nulla ci sentiamo di dire una cosa ci vediamo come stai come non stai il nostro caffettino virtuale ma poi noi in realtà decidiamo di cosa parlare in base alle esperienze che abbiamo affrontato durante la settimana le condividiamo e mi hanno chiesto ti prepari qualcosa cioè come scegli cosa dire e il pubblico a cui destinarla e io risposi io dico quello che sento e lo lascio lì qualcuno passerà e lo coglierà altri mi insulteranno non fa nulla ma quel qualcuno a cui serve lo coglierà effettivamente è così ecco perché tutto questo intrecciarsi poi di commenti che sono alle volte negativi alle volte positivi maggiormente sono positivi lo riconosco di persone che ti ringraziano perché hanno colto quell'energia e quella parola da un certo punto di vista li ha invitati all'azione si sono hanno smesso di preoccuparsi e si sono predisposti ad agire è molto importante certo come comunichiamo io infatti una cosa che uso tanto anche nelle storie di Instagram per esempio è il fatto di mettere le affermazioni per esempio scrivo ringrazio me stessa per ogni mio passo perché lo faccio perché le persone nel momento in cui lo leggono è come se se lo stessero dicendo loro quindi utilizzo questa cosa in prima persona perché nelle persone rientra questa cosa e se lo vedono dentro di loro leggendolo scritto così quindi è una cosa che uso proprio per per arrivare in modo in prima persona cioè che la persona lo sentono dentro di loro e anche inconsciamente vanno a suggestionare il loro inconscio quindi le parole si hanno una hanno una potenza grandissima perché creano la nostra realtà creano il nostro stato d'animo come ci sentiamo e quindi dobbiamo stare attenti a quello che ci diciamo a quello che ascoltiamo e anche a quello che diciamo che portiamo fuori perché l'altra riflessione che avevamo fatto prima di iniziare a registrare la nostra puntata è ma come si fa a dire che sono solo parole però poi ti capita di sentire delle parole negative rivolte a te allora ci soffre allora non sono solo parole perché quelle negative hanno un peso e quelle positive invece per te non ce l'hanno non gli dai valore perché è un fatto io credo a quella cosa negativa che mi è stata detta allora la trasformo nella mia realtà in sofferenza appunto perché è negativa ma se è vero che una negativa ti può far star male è vero anche il suo contrario quindi dove risiede secondo te questo scetticismo del sì ma sono solo parole penso che sia perché la società ci ha portato a dire sono solo parole perché contano i fatti e invece no perché le parole vanno a creare e le cose dipendono sempre da noi dicendo sono solo parole andiamo a scaricare la colpa sugli altri quando invece siamo noi responsabili della nostra vita sì sì quindi anche perché i fatti che poi stai cercando quando fai questa affermazione partono proprio dall'affermazione dalla parola cioè per prima prima di fare una qualsiasi azione se a me in questo momento cade la penna a terra io prima di prendere la penna penso di prendere la penna tra virgolette dico a me stesso di prendere la penna e divento un fatto nel pensiero pensa se mi dico non posso prendere la penna a terra non la prendo se dici ma non ho voglia la lascio lì infatti così fai il problema è che così viene fatto per ogni cosa no vabbè ma non ho voglia di seguire la dieta all'inizio lunedì no vabbè ma non ho voglia andare in palestra ciò la settimana prossima intanto continua a rimandare la vita perché perché ti stai parlando in quel modo e le tue parole stanno creando la tua realtà è ovvio che la società che ci vuole tenere costretti nei suoi giochi non ci insegna che con la parola noi creiamo la nostra realtà non vuole non vuole non vuole neanche che noi lo si venga a scoprire o meglio a ricordare perché questo è un dono innato quindi ti dicono loro le parole per creare la tua realtà veniamo da un periodo in cui con la parola hanno creato la paura la paura che crea la debolezza la debolezza che crea la malattia esatto infatti molte volte usano parole brutte perché così vanno a creare determinate situazioni e quindi è importantissimo per dare qualche consiglio importantissimo beh sicuramente la gratitudine quindi dire che io sono grato per il mio corpo il mio tempio sacro io sono grato per la mia mente io sono grata per la mia salute io sono grata per le persone che ho nella mia vita sono grata per me stesso quindi perché questo ti porta a manifestare delle cose e poi appunto utilizzare anche le affermazioni volendo si possono scrivere perché può essere anche un modo per riuscire a ad essere più costanti e poi una cosa che consiglio è magari quelle poche affermazioni da ripetersi spesso quindi anche solo c'è tipo una cosa che io trovo potentissima è ripetere diciamo mantra io sono l'amore io sono la luce io sono la verità io sono magari anche mentre si cammina tanto comunque i pensieri ce li abbiamo perché è inutile che diciamo sì ok ti guardi in giro ma poi la mente ti porta via sì sì no i pensieri ci sono cambia solo il modo in cui ti approccia questi pensieri come li guardi se li credi o se sai osservarli quindi importante parlarsi in un modo costruttivo anche perché potenziando le nostre parole andiamo a creare dei pensieri diversi perché se io inizio a pensare inizio a dirmi io sono amore io sono amore io sono amore è chiaro che poi nel mio pensiero ho delle immagini delle sensazioni di me più elevate che se mi dico io non valgo niente assolutamente guarda io direi che possiamo chiudere con questo augurio qui insomma poi te lo lascio fare a te il mio piccolo preambolino è ditevi buone parole dite buone parole e sappiate ben scegliere le parole che devono entrare nel vostro tempio perché poi diventeranno un'azione o vi inviteranno ad un'azione quindi la parola ha un potere non pensate che sia soltanto un suono che si propaga nell'aria senza nessun fine ha un fine molto molto importante sì io credo che la vita sia sempre un invito a a danzare a danzare luminosamente con lei e siamo qui per ballare la nostra la nostra musica e le parole sono il suono quindi più scegliamo parole con una vibrazione d'amore di luce di pace e più anche la nostra danza è armoniosa felice gioiosa assolutamente assolutamente è creata un'immagine bellissima e quindi non credo noi si debba aggiungere altro va bene vi lasciamo con questa immagine e con una buona danza alla prossima settimana grazie 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 ciao a tutti grazie di cuore promesso vi terremo aggiornati sullo sbocciare dei nuovi fiori di mandorlo sull'albero sotto casa mia buon tutto namaste namaste